Ritorna il sabato del Pepe Bianco Club Addicting per una one night davvero esclusiva, Michael Watford in concerto, bene io sono Carmen e questa è la mia notte brava per voi, a voi le immagini sono in compagnia del super ospite di questa sera Michael Watford Hi, how are you? Ciao a tutti, cosa succede? Mi sono buono, mi sono buono e come ti senti? Mi sono buono sono buono oggi è buono per te è molto bello grazie a te questa è la tua seconda volta in questo club? la mia seconda volta in questo club la prima volta abbiamo avuto un'ottima un'ottima bella show, un'ottima bella blast quindi stiamo facendo l'attività di essere qualcosa estremamente bello bene bene, abbiamo dato il benvenuto lui sta molto bene si è divertito insomma perché qua ha anche cenato ho cenato anche abbastanza questa è la sua seconda volta è stato qui anche il 25 dicembre di tre anni fa parlare del tuo sonno e delle vostre influenze wow, il mio sonno il mio sonno è un R&B coppito con il Gospetto ma influenze sono i ragazzi i always like the big voices i like the smooth voices like the Eddie Kendricks but when I think about it I think about Teddy Pendergrass and I think about David Ruffin and I think about you know Michael Watford and I think about people that bring on the anthem like style singing the way that they cross over the way that they get people attention when you're trying to deliver a message you're making sure that they understand exactly every word every pronunciation bene, lui ha avuto delle influenze anche soul, gospel infatti la sua è una voce molto molto calda ha fatto un po' di nomi di personaggi importanti che l'hanno influenzato nella sua musica comunque in ogni modo sono sempre voci importanti che l'hanno insomma trasmesso un messaggio so, your future project well, my future projects now I'm at home working in the studio it seems like I never do enough I travel with a band I do have a live band called Hot Pursuit and we are out of New York and we do have a different situation where we're working on production as far as the whole band individual artists in the band on top of that with a new Michael Watford project coming in questo momento lui sta lavorando ancora in studio per un suo progetto e in più sta cercando di promuovere dei nuovi artisti your personal greeting for all the friends that watch now alright, well first of all I want to thank all the Italian DJs all the European DJs that's making house music what do you think about Italian DJs? who party like the Italians? you guys know how to party you party hard and I wish that the rest of the world could have a camera on the Italian house club venues especially the outside the beach venues and when they do the festivals and everything here in Italy what I think I love about Italy is that the women are absolutely beautiful and the music go along with the women you know at the end of the day this is the way the world should be with a party to put the politics aside you know if you didn't have politics and we all lived on house music I think the world would be a better place okay and something a cappella all of my love and my touch and my kiss and my hug and I'll give it to you come on sono in compagnia di Alex Duello di G-Resident proprio del Pepe Bianco ciao Alex come stai? ciao a te ciao a tutti gli amici di Notti Brave dunque e poi mi trovo anche con Davide che è il uno dei capi diciamo uno dei soci del Pepe Bianco ciao Davide buonasera agli amici di Notti Brave buonasera a te bellissimo come sempre grazie grazie mille poi per una one night così esclusiva per forza abbiamo stato tutti quanti in tiro anche te con la cravatta questa sera eh sì stasera è una serata speciale perché abbiamo un grande ospite qui con noi al Pepe Bianco parlacene un po' eh sì grande ospite questa sera il Pepe Bianco il nostro Davide ci fa vedere il Flyers della serata Michael Waterford ospite già al Pepe Bianco a Natale a Natale brava te lo ricordi tre anni fa è ritornato perché lui è un un grande singer e Davide invece tu parlacci un po' come proseguirà questa primavera qui al Pepe Bianco beh dopo lui dopo Michael Waterford pensa che lui è stato il nostro primo il nostro primo artista dopo di lui ce ne sono stati grande battesimo avete avuto eh dopo di lui ce ne sono stati tantissimi quindi se vogliamo ha portato fortuna al Pepe Bianco e quindi io spero che dopo di questa serata porta fortuna per la primavera benissimo abbiamo detto proprio tutto io vi auguro un'ottima notte brava questa sera auguratela anche voi ai nostri due spettatori grande notte brava a tutti gli amici di Notti Brave e anche a noi del Pepe Bianco insieme a voi ci sono stati e anche a Charlotte e anche a noi perlantPL tutti tutti che il Grazie per la visione!